Lo sapevi che, dopo una lunga ed onorata carriera, arrivato a 67 anni, la stella hollywoodiana Bruce Willis è costretto a ritirarsi a causa di una malattia cognitiva, l'afasia. Una malattia che rende difficoltoso all'inizio e poi impossibile capire ciò che gli si viene detto. Un attore che ci ha regalato grandissimi successi cinematografici ed emozioni indimenticabili. Un attore che, in qualche modo, ha accompagnato tutta la generazione degli anni Ottanta. Willis ha esordito all'inizio degli anni Ottanta nella serie televisiva Moonlight, che gli ha fruttato un Golden Globe e un premio Emmy. Il ruolo che lo ha reso celebre è stato John McClane in Trappola di Cristallo del 1988 e successivamente nella saga Day Hard, che è durata circa 25 anni e ha prodotto ben 5 film. Poi arriva Quentin Tarantino, che lo porta alla fama grazie al colossal Pulp Fiction. Nel corso della sua carriera, lunghissima tra l'altro, Willis ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti. Come, ad esempio, la stella di Hollywood Wake of Fame e uno spazio anche per le sue impronte al Grumman's China Theater di Los Angeles. Insomma, un attore che ha davvero reso la sua carriera uno spettacolo ininterrotto. Forse non sapete che nel 2000 ha anche vinto il premio Emmy come miglior guest star per la sua partecipazione alla famosissima serie Freehand. E non finisce qui, perché ha anche inciso ben due album con la sua band, Bruce Willis and the Accelerators. Ha sempre dichiarato, infatti, che la musica è stato il mezzo che gli permetteva di estranearsi dalla frenetica vita della stella hollywoodiana. Che faticaccia! A questo punto ci stringiamo attorno a questo grande attore, augurandogli di poter stare bene. Un abbraccio a tutta la sua famiglia e a questo papà del cinema. A loro va il mio IEA di buon auspicio. Grazie a tutti.